Scritto in caratteri onciali, ricco di 15 illustrazioni decorative, con 188 fogli dei 400 originari, il Codex Purpureus Rossanensis è uno dei sette codici miniati orientali esistenti al mondo. Inserito dall'UNESCO nella lista dei testi Memoria del Mondo, quest'opera straordinaria è giunta fino a noi grazie alla cura, all'attenzione e soprattutto alla protezione della Chiesa Rossanese. Emblema autentico di una storia antica e segno visibile di una preziosissima devozione, il Codex, dopo un lungo e certosino lavoro svolto dall'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, torna a Rossano, nella sua città. Restaurato grazie alla volontà di Monsignor Giuseppe Satriano, il ritorno del Codex è un evento straordinario per l'intera regione Calabria, che conferma, qualora ve ne fosse bisogno, il ruolo di attrattore turistico di un territorio, quello di Rossano e della Sibaritide, che può contare su uno sterminato e impareggiabile giacimento di risorse storiche, archeologiche, artistiche ed ambientali. Per dare visibilità e risalto ad un evento unico, il ritorno del codice sarà trasmesso domenica 3 luglio in diretta televisiva dalle 17 alle 19 su RTC, canale 17 del Digitale Terrestre, e dalle 21 sui canali Sky 875 e 879. Grazie al prezioso apporto di tanti imprenditori e dallo sforzo organizzativo e giornalistico di quattro realtà editoriali calabrile, il Corriere della Calabria, il Giornale di Calabria, l'Eco dello Ionio e la News & Com.